ma ci sono un pochissime skin su 3-4 skin su 50 livelli allora questa non l'ho visto ah ma questi è il negozio oggetti si vai su un passo G, c'è scritto sopra che c'è ok si 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 ok allora no no cosa fa non l'ho comprato sempre uguale sarà come chimera la tipo qua no non l'ho visto al volo ma non mi piace troppo no ma dico sarà come chimera che ci dobbiamo trovare le robe non lo so vabbè ci sono le missioni adesso allora vabbè intanto guardiamo le emote no no vabbè ok guardiamo le emote le emote è figa mi piace un botto no 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 perché gira su tutto ah ma ha un bel po' di emote si 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 infatti si chiama mitragliata di flash perché te lo ricordi vero che figo vabbè la mimetica vale sono tutte il piccone è veramente bello il piccone mi piace perché tipo è una falce ascia si si è proprio figa molto bella anche la scia ci sta la schiena è bella 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 la scia boh ma io non le uso le schiena sono troppo incombre il backpack vabbè uno scudo normale ah ci puoi mettere la l'icona anche la schiena l'ho visto prima puoi metterci l'icona gli metti l'icona si ma solo se fai una roba va bene la seconda schiena belli i picconi i picconi sono bellissimi i picconi sono bellissimi si mi piacciono ma non lo leggerei mai quindi il backpack ci sta i bucks sono sempre carino no il backpack è gigantesco il deltaplano è bellissimo il deltaplano è bellissimo il deltaplano è una rivisitazione di quello che c'è già del giratino il deltaplano è bellissimo anche mezzo mangiato bellissimo la schiena è bella la schiena mi piace la schiena non è male molto bella la schiena però non me l'aspettavo così perché è figo ah lo stile ha più stili si ma ne ha tanti se vai da una pagina successiva poi c'è la schiena di crevimento che è bellissima perché ricorda la schiena di crevimento ma quella della bananita si quella della bananita sul trono glaciale però è figo perché il cono gelato pensavo fosse proprio il cono gelato normale non il vestito cioè una felpetta è figo così no si è figo piace poi vabbè c'è tutto rivisitato colorato al pistacchio prossima pagina bello è verde non è pistacchio no no pistacchio pistacchio stai zitto pistacchio pure con gli occhiali anche gli occhiali drip ha due stili il deltaplano al pistacchio è bellissimo si ma c'è anche l'altro stile quello cioccolato è più bello davvero vediamo l'effetto di una dieta equilibrata si si se vuoi avere un di buono un tumore bello quella cioccolata proprio bello quello al pistacchio vero bananita alta nera terza skin cazzo eh questa è la mia skin preferita niente da fare è il misto eh si si ma è il misto tipo tra la renegade rider e la ma poi c'è scritto sopra si links rinegata eh io non li leggo i novi non me ne frega un cazzo di come si chiama il deltaplano è figo ma mi sa che è caricabile il deltaplano vabbè tra l'altro c'è la schermatica che ho anch'io questa qua è bella la schermatica con quegli effetti elettrici dub su un'occhiante bellissima dove dove mio padre dub su un'occhiante si si no è bellissimo oh oh che figo è bellissimo bella 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 poi c'è il mio stile preferito di links aspetta il backpack molto bello si no no il backpack il deltaplano scusa va qua e va bene si a me piace la faccia di links tempesta oscura no ma è meglio quella maschera ma cambia anche i colori è reattiva ma non è detto perché può essere che sia solo questo stile e la maschera non può mettere peccato che eh no ma gli occhi gli occhi della maschera non sono reattivi ma neanche sulla skin originale erano reattivi ma potevano essere reattivi cioè potevano cambiare colore l'ultimo a me piace l'ultimo no come l'ultimo è il sesto eh no è l'ultimo bello bello lui è bello aspetta aspetta vediamo qua bello bello come si chiama se un attimo come si chiama pensavo che il balletto facesse la voce di summer ok tutto e avevo messo il balletto subito pensavo che fosse la sua voce cazzo come cazzo si che è bello il deltaplano la nave bellissimo ma guarda non è il teplano quello è un emot come non è il teplano è un emot senza casco è figo il deltaplano a me piace il piccone il deltaplano il deltaplano non mi fa impazzire tu dici sto suono di merda non faccio niente a me piace un po il deltaplano sputa spara raggi per raggi si è come come oro che ho io vediamo questo il piccone è molto bello il piccone mi piace molto casino la skin ovviamente è bella la personalizzazione cazzo ma è come omega è vero è fighissimo fighissimo sì omega ronk l'armatura bello la schermata di caricamento è molto bella la sua aspetta che la guardo intera ho solo un pirla volevo riscattare 250 stelle va bene lo stesso allora andiamo a vedere su ricompese bonus cazzo la canzone dell'estate c'è copia che sta merda spero di no perché cosa vai su ricompense bonus tu l'hai preso il pass sì vai su ricompense bonus l'abbiamo finito cosa vai su ricompense bonus l'abbiamo finito ah danza montata fa cagare è una merda eh visto qua con il mio scignone è molto divertente io ti dico tutte le robe tranne la skin bello bello sto stile stai io bello lo stile ma automatico ma fa cagare ecco sì no cioè c'ho il piccone da meta lì però fa cagare sì però la pagina si sblocca tra 13 giorni non va bene io volevo vederle è una skin eh appunto lo so no come una skin uno stile di una skin no no è una skin e poi c'è non lo so ma presumo sia una skin e la skin segreta non c'è è quella ah è quella ok paladino spectra è molto bello che si può io ho già una skin io devo c'avevo già un'idea cazzo forse così ultimo elmo adesso sto eh ultimo no io volevo o il quello di mezzo o il penultimo quello con le corna devo vedere io ultimo cosa cambia da questi poi cambia e quelli sotto in teoria cambiano lo schema di colori come spero in teoria ah ok vabbè questo ci sta vabbè questi sono gli standardi ce n'è uno che si colora completamente vabbè i colori vabbè colore glaciale ovviamente si mette cazzo anche il galaxy è bello anche questo però il glaciale è più bello non so non mi piace no vabbè prova a vederlo il primo glaciale e galaxy no bro sembrano gli stili bonus dell'inizio capitolo no 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 ma come l'ho fatto io con le corna stile il primo glaciale e il secondo galaxy è bellissimo questo è il mio è il mio adesso ho gotteto che l'hai trovato io devo trovarlo manca da capire l'elmo in realtà sono tutti belli gli elmi anche questo anche il secondo è molto bello quello è semplice come un soldato semplice comunque 50 livelli secondo me sono un po' pochini però io ne avrei fatti 100 lo comprai shut up mi interessa 50 livelli sono un po' pochini io ne avrei messi un po' di più però è lo stesso